Si è svolta presso la sede centrale dell'Ubi Banco di Brescia la presentazione ufficiale della rosa del Brescia Calcio. Inoltre si rammenta che la campagna abbonamenti è già in corso e ha riscosso una buona risposta da parte dei tifosi. Ai nostri microfoni lo conferma Roberto Tonizzo, direttore generale Ubi Banco di Brescia. È cambiata la struttura societaria, ha dato solidità al futuro del Brescia Calcio. Noi siamo stati parte in causa di questa ristrutturazione per quanto tiene la parte societaria. Abbiamo voluto rimanere vicino anche alla parte sportiva, prolungando la nostra sponsorizzazione per 5 anni, dando un segnale di continuità sia per quanto attiene la parte societaria ma soprattutto la parte sportiva a cui teniamo molto a cuore. Io ricordo che la nostra banca è già 25 anni che vicina come sponsor principale al Brescia Calcio, testimonianza di quanto tiene la banca alla squadra, ai tifosi e alla città. È vero, noi siamo stati spettatori come sponsor ma piacevolmente sorpresi della professionalità di chi gestisce il Brescia, della capacità di catalizzare giocatori verso questa squadra. Io ero a vedere una partita di Serie A domenica scorsa e il nome di Brescia è visto con piacere dai lavori, da chi c'è stato e da chi vorrebbe anche partecipare come giocatore al futuro di questa squadra. Voglio ricordare i problemi che si sono superati per cui anche per questo di anno in anno si valutava la continuazione della sponsorizzazione. A fronte di un progetto così importante non potevamo non esserci, non potevamo non legare il nostro nome per un tempo più lungo alla squadra. I dati degli abbonamenti che ci hanno comunicato sono superiori ai 4.500, di questi oltre il 10% sono prenotati tramite le nostre filiali. Le nostre filiali sono poi a disposizione per eventualmente finanziare un abbonamento che può risultare un po' più costoso con finanziamenti rateali a testimonianza della vicinanza della nostra banca ai tifosi.